Musica Benvenuti alla rassegna stampa di oggi, giovedì 15 dicembre 2016, 10 giorni a Natale e siamo qui di nuovo al mattino Come sempre per leggere e sfogliare insieme a voi i titoli e i giornali della provincia, del territorio Cominciamo però prima dal santo del giorno, oggi è una santa bresciana del 1813, Santa Maria Crucifissa di Rosa Il sole è sorto alle 7.35 e tramonterà alle 16.32 Vediamo subito il tempo, giovedì oggi avremo cielo nuvoloso per nuvole basse lungo la fascia costiera Il primo collinare parzialmente nuvoloso invece altrove, temperature massime in diminuzione nelle zone collinarie montane Senza variazione di rilievo invece altrove, i venti sono nord-occidentali Domani peggiora, vedete nel centro e nel meridione della regione con limite delle nevicate intorno ai 900 metri Poi in diminuzione in serata fino a 700 con temperature in diminuzione, dicevo, e venti nord-orientali di brezza tesa Per sabato 17 ancora cielo nuvoloso ma con diminuzione della nuvolosità nel pomeriggio In mattinata avremo isolati rovesci più probabili lungo la fascia costiera Le temperature sono senza variazioni di rilievo, i venti nord-orientali di brezza tesa moderati lungo la fascia costiera Per domenica il tempo migliora, poi peggioramento probabile da lunedì C'è la notizia in prima pagina sul resto del Carlino con la foto di uno degli imputati al processo contro Per la morte di Ismaele Lulli, siamo all'omicidio e ferrato di Sant'Angelo Invado C'è stato un interrogatorio drammatico dove Igli ha accusato l'amico Mario Su e dice sono le coltellate mortali a Ismaele Rivela anche di aver tentato il suicidio dopo il delitto Ma quando in aula legge la lettera di perdono alla madre di Ismaele Lei, Deborah Lulli, la mamma di Ismaele, se ne va Poi il quartiere non vuole gli stranieri L'assessore pesarese è costretto a retrocedere a Montegranaro Il Comune ora pensa ad un'alternativa per la sede dello Sprar Andiamo sulla pagina di Fano del resto del Carlino Cecchi, disattesi gli impegni Serie mascherine dopo la doccia fredda di Tagliolini La sezione di Agraria non aprirà perché è stata preferita ad Urbani I Cinque Stelle invece dicono Per la terza volta in tre anni le promesse vengono sconfessate dai fatti E poi la fine dei lavori alle poste di Via Gabrielli Riapre questa mattina alle 10.30 l'ufficio postale di Via Gabrielli 53 Dopo un importante lavoro di ristrutturazione Ospedale subito un incontro con Ceriscioli La richiesta del sindaco ai consiglieri regionali Fano non va umiliata così Minardi risponde a tutti piacerebbe il nuovo ospedale a Chiaruccia Ma non ci siamo soltanto noi Mentre l'affondo di Aguzzi, l'ex sindaco da Massimo Seri Altro blef è fuori tempo massimo Queste le reazioni Mentre c'è la lettera shock di Belli L'ex amministratore dell'aeroporto di Fano Che scrive all'Enac Tante zone grigie compresa la sicurezza Ci sarebbe un pericolo reale legato al rifornimento degli aerei negli angari E poi paura all'Ocean Una donna si sente male ma è stata subito soccorsa dal 118 A Lucrezia invece una rapina intorno ai 12.30 Con passamontagne e taglierino tutti a terra Ma un bandito finisce subito in manete La polizia ciuffa uno dei responsabili della rapina alla BCC Di Viale della Repubblica Proseguono intanto le ricerche degli altri due fuggitivi Che hanno il bottino da 30.000 euro Poi invece guardate la fotografia di questo monumento al Nino Mondavio Gli animalisti imbrattano il monumento con della vernice rossa Ancora Questa è l'altra pagina del Carlino Mamma Deborah quanto dura questo supplizio Hanno ammazzato e ancora parlano Io dico che devono marcire in cella I familiari di Ismaele rivelano le forti spese per il processo Lo so che è un loro diritto dice la mamma di Ismaele So tutto ma io non ce la faccio più Non mancherò certo alle altre tre udienze Rimaste per vederli condannare E durerà questo supplizio fino a marzo Adesso il Corriere Adriatico La lettera di Igli Isma perdono La mamma però dice questo mai In aula alle belve di Sant'Angelo invado Continua il balletto sulle coltellate fatali Poi la notizia, la foto della regione Che lascia a piedi i pendolari terremotati Soppressi i pullman del servizio treno più bus Alla camera intanto passa il decreto sul sisma La pagina dello sport del Corriere Adriatico Gabellini amareggiato per le critiche ingenerose Le promesse non mantenute Fano io vado via Dice il presidente dell'Alma Juventus Fano della squadra di calcio Fino a maggio farò il possibile Per portare la squadra alla salvezza Poi lascio Sono sei mesi Sono scusate sei anni che ci metto la faccia Tempo e soldi Ma onorerò fino in fondo la stagione Questa è la pagina dello sport Invece quella di Fano Dal Corriere Adriatico Eccola qua Tre consiglieri regionali con seri L'ultima pressione su Ceriscioli C'è questo incontro sul sito di Muraglia Il sindaco dice La scelta è un'entrata a gamba tesa All'invito in municipio Hanno risposto Rapa, Talè e Minardi Quest'ultimo è abbottonato Mentre saranno assenti Traversini e Carloni Per le elezioni in provincia Invece è paventato una lista di amministratori Che amano il territorio Aguzzi dice addio a sette comuni La battaglia ormai è persa Fratelli d'Italia sprona Il primo cittadino a dimettersi Per contrastare la politica del PD pesarese Mentre nella foto vedete Massimo Ruggeri Che è il nuovo amministratore Dell'aeroporto di Fano Ora infatti la Fano Fortuni si affida a lui Dopo la rincicotti Orciani Deve rilanciare adesso l'aeroporto Tre incappucciati assaltano la banca Intercettati e braccati Uno è stato arrestato Dieci clienti e otto dipendenti Fatti stendere a terra Nella fuga la banda cappotta Con l'auto rubata Nella zona di Falcineto Il poliziotto è a manetto In un ragazzo di Cerignola Caccia gli altri due in fuga Con 30 mila euro Questa è la foto che mostra La sede della filiale di Lucrezia Della BCC di Fano Assaltata ieri mattina dai banditi Settantenne invece Focoso molesta la badante E la picchia Respinge le sue avance È un'anziana coppia Minacciata dall'assistente Piano scolastico congelato Fano proteste Tagliolini cede Il presidente della provincia Convoca un vertice Dibattito sugli indirizzi Tecnologico e Agrario Poi ancora dalla Valle del Cesano A Frontone idee e attività Per i giovani Frontone ha vinto il bando 100 mila euro tra fondi pubblici e privati Per dare linfa al centro di aggregazione Tutti di corsa invece A piagge per solidarietà Vestiti di rosso da Babbi Natale Domenica c'è la pittoresca gara non competitiva Il tracciato va da San Giorgio A San Costanzo Senigallia Centro isolato Sott'accusa la viabilità I commercianti ora chiedono i danni La protesta prosegue Subito cancellata l'ipotesi della serrata Ci rimetteremo solamente noi Se chiudessimo i negozi Fatturati in picchiata Prospettive incerte Senza esito il vertice Con il sindaco Mangialardi L'ultima notizia invece È sulla morte di questa donna Di 43 anni Mamma di una figlia di 11 Affetta dalla leucemia Ieri questa mamma coraggio Si chiama Franca Cecchini All'improvviso è morta È morta d'infarto E dunque inutili soccorsi Adesso c'è il dolore Il dolore dell'intera frazione Di Marzocca di Senigallia Di fronte ad un lutto Che ha colpito tutti Ci fermiamo qui con la rassegna stampa Vi ricordo che c'è il nostro concorso Dei presepi Al quale potete partecipare tutti voi Se avete un presepe in casa Potete fotografarlo Tre scatti al massimo Con un video Non più di 30 secondi È importante che ci siate anche voi Protagonisti in questo presepe Quindi è bene che vi facciate una foto Insomma accanto alla vostra opera E poi mandate tutto a Presepi Chiocciola Fanotv.it Ci sarà poi un piccolo premio Grazie per averci seguito A voi tutti l'augurio di una buona giornata Grazie per aver guardato il nostro canale 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 Grazie per aver guardato il nostro canale